Celebriamo il grano, quindi il pane, e il lavoro e il progresso dell'uomo. Torna nel borgo di Castiglionfibocchi, nell'Aretino, la rievocazione dell'antica battitura del grano. Sabato 7 settembre alle 16, il camae, con i suoi mezzi storici, darà vita ad una delle scene più belle delle tradizioni contadine. Innanzitutto la macchina a vapore, che è quella da quale nasce proprio l'energia, e poi la trebbiatrice. La trebbiatrice è la prima macchina, la vera macchina che arriva nei campi, arriva nelle aie, a battere il grano. La macchina a vapore poi, che era molto ingombrante, verrà sostituita dal trattore, principalmente il trattore a testa calda, e quindi, ecco, è una grande festa, una grande festa del grano, che poi si concludeva proprio a tavola, con il desco contadino dell'epoca. Alle 19 ci sarà la sfilata dei trattori d'epoca, che si concluderà proprio in Piazza delle Fiere, dove verrà consumata una cena che rispetterà le tradizioni toscane. Grazie. Grazie. Grazie.